Il rimpianto con un'annata come quella dei 97 azzurri è non poter essere protagonisti come l'anno scorso quando nella fase finale dell'europeo under 17 il sogno sfumò solo ai rigori contro la russia non poter difendere il titolo di vice campioni e migliorarlo è certamente doloroso per il gruppo di mister zorato ma costruire il futuro non è solo risultati e sguardo all'orizzonte attuale alzando gli occhi verso il futuro e parlando di azzurro con due tra i giovani bomber più promettenti d'italia è facile allora volare al 2018 o addirittura già al tanto discusso mondiale 2022 nella settimana che porta al derby di milano dei grandi uniamo a tinte azzurre federico bonazzoli e luca vido già saltati in primavera da sotto età e con le idee molto chiare a me piace vivere le mie partite minuto dopo minuto e quando la sera magari prima di addormentarmi ci ripenso a quello che ho fatto in campo e come ho giocato ecco non diciamo che rivaluto la mia prestazione analizzando ogni gesto singolarmente e sperando magari nella prestazione successiva di migliorare ciò che ho sbagliato in quella precedente ma io mi anche io cerco di fare tutto di testa mia di di dare il meglio di me poi vedo anche i giocatori in serie a che sono tutti di esempio per me come del piero come in zaghi sono tanti campioni e quindi spero di fare come loro diciamo ma è il rapporto con la nazionale ad unire i sogni dei due giovani azzurri dalle aspettative molto alte di federico fino al mondiale già giocato categoria ovviamente under 17 per luca l'etapa più importante il mondiale come è successo alla nostra nazione nel 2006 è riuscita addirittura vincerlo quindi penso che sia l'elite di per colmare una grandissima carriera di un grandissimo calciatore che spero di diventare è stata un'esperienza eccezionale ho fatto quei risultati grazie sia come grazie a me che grazie a tutta la squadra perché mi hanno aiutato il mister i miei compagni tutto lo staff a dare il meglio di me e contribuire a quello che abbiamo fatto fa solo che piacere giocare sia per il club ma soprattutto anche quando vengo chiamato in nazionale è un'emozione che anche diciamo se non è la prima volta che ci passo a ogni chiamata il cuore abbatte forte quindi è impossibile dire di no diciamo sono cose che ti resteranno insegnate per tutta la vita sono esperienze fantastiche e magari sarebbe un sogno per me perché continuando a lavorare anno dopo anno spero di coltivare questo sogno di riuscirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti